Aia, spero vi piaccia, ho messo una parte di me dentro questo testo, e anche se a volte ciò che scrivo detesto, faccio arrivare il mio messaggio con un solo gesto, spero che non vi deluda, perchè sinceramente a me non mi ha deluso. Stappo una bottiglia e ricordo chi sono, ricordo da dove vengo, ricordo ciò che dono, ho donato tante cose che le ho scritte nelle strofe, per far capire alle persone che non mento sul mio nome, ho scritto sta canzone come tema dono, allora la mia mano sul microfono oppono, racconto un po' ciò che ho donato, ho donato strumenti che io stesso ho suonato, ho donato sentimenti a persone sconosciute, so che mi tenti con parole vendute, spero che vi piaccia e non che vi annoi, questo testo sul dono l'ho scritto per voi, questo testo sul dono l'ho scritto per voi, questo testo sul dono l'ho scritto per voi.